Oggi si affrontano Portogallo e Slovacchia. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Garesse e Luca Marcheggiani. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Riceve un bel pallone, ecco che parte il cross. Passaggio in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. E passa, cerca la rete e c'è il gol della Slovacchia. Davanti alla porta, pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Il suo pallone è morbido. Joao Cancelo era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Sulla fascia, in profondità. Cristiano Ronaldo. Ruben Neves. Bruno Fernandes. Cerca spazio. Si libera della palla. Vince il duello fisico e fa solo il pallone. Vuole il lancio filtrante. Vuole la profondità. Se ne va. Ottimo dribbling. C'è spazio per calciare. Tentativo verso la porta. Ha perso l'attimo giusto. Fallo. Calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. I compagni preoccupati vanno a verificare le sue condizioni. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa, dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di fallo. Ecco che ci prova. Vuole la profondità. Grande. Attenzione. Ci prova. Che grande. Ci prova. Bruno Fernandes. Pallone verso il pallo più lontano. Cristiano Ronaldo. Gol. Non sbaglia. Hanno mostrato grande grinta. Carattere. Prova il filtrante. Prova a prolungare. Riceve un pallone interessante. Prova la giocata nello spazio. C'è spazio per calciare. E l'arbitro chiude qui la partita. Finisce dunque in parità. E a prescindere dai risultati è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Catalunya almond. Corso. Chiude cento.